Ha delle etichette a tutto, crea il suo ambiente dando dei nomi, attribuendo i nomi alle cose e indossa questo pigiama con le orecchie da coniglio perché quello è il suo mondo, vive nel suo mondo e ama in questa maniera e l'incontro con Aldo segnerà definitivamente la vita di Aldo stesso che poi si verrà a scoprire che è suo padre. Sono due viaggi, il viaggio è il film proprio, la storia è un viaggio anche interiore, un viaggio di cambiamento Aldo è un personaggio antipatico, cinico, ipocondriaco, pieno di fisime, è uno che è un degano, anaffettivo non beve, non fuma, cosa che non invece faccio, completamente diverso da me come indole proprio abbiamo solo in comune questa passione, lui fa solo teatro, ha questa voglia, finalmente gli offrono hanno quest'occasione, lui ambisce a fare un film, finalmente la protagonista, mai fatto un film, finalmente glielo offrono, ma in quel preciso momento accade, viene a scoprire che ha una figlia Gritta aveva una figlia Peggia Chi è il padre? Sei tu Aldo Aldo! Una figlia fra virgolette fuori, testa fuori, disarmante, dolcissima, una figlia con dei problemi ed è costretto ad accettarla, dovrebbe, ma lui nega, nega, non la vuole vedere, cerca di scaricarla continuamente, perché ha in mente questa sua ansia di fare questo, ma nel frattempo durante questo viaggio accadono delle cose, e accade un piccolo miracolo, lui comincia a sentire un sentimento per lei, per cui forse lo porterà a rinunciare a questo film, per dedicarsi forse a questa creatura magnifica, quest'attrice meravigliosa, questo bravissimo regista, grande sceneggiatore di Nicola Guagliano, ricordiamo Isabella Ferrari che fa un bellissimo ruolo No, noi abbiamo avuto, io la chiamo fortuna, fortuna, sfortuna, ma sempre tra virgolette, il film doveva partire mesi prima rispetto alla data in cui è stato girato, in realtà poi è stato posticipato a settembre dell'anno scorso, e quindi io alla fine ho avuto tutto un anno per poter frequentarmi con loro, quindi io non credo di aver avuto un rapporto tipico tra il regista e l'attore in cui ci si vede un paio di volte, si sistema il ruolo, siamo proprio frequentati E' nata un'amicizia sicci vera Un'amicizia vera, perché a casa di Ale ormai sono praticamente... Ma le ha lapidato una cantina? Viene a casa mia, bene Una sera sì, una sera no, e con Sara prima delle riprese siamo visti una marea di volte, quindi per me quello è stato il lavoro più bello, più facile, di cercare di trovare una quadra su questi personaggi C'è stata una preparazione sul foggiano, perché il film è ambientato a Foggia, quindi con Alessandro, Alessandro inizialmente aveva l'idea di dare una cadenza foggiana al personaggio, poi io mi sono sentita invece di farlo proprio in dialetto, perché questo personaggio proveniva da un ambiente di campagna, ecco, quindi... E poi in più tutto l'aspetto dell'essere diversi, dell'essere particolari, ma la cosa più fondamentale per me era quella di arrivare all'emozione vera e a creare una connessione vera con Alessandro e... Quale Alessandro? Tu? Haber Ah, di, 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 se no non capiscono più... Con Alessandro, con Alessandro Haber, grazie all'edito di Alessandro Capitani Quindi i miei due Alessandri... La gente a casa, chi lo che viene dentro l'Italia dice, ma qua è Alessandro, Alessandro, qua è Alessandro Ho capito, per quello va rastoninato Grazie a tutti